Professore, vado avvisati, non sta mai. 22, guys, Roberto. 32, mandato Giuseppe. 34, Califano Cristian. Vi invito tutti a fare un passo indietro sulla riga rossa centrale. Perfetto. E diglielo, diglielo. Numero 34, Califano Cristian. Invito gli atleti a stare nella posa di la stata frontale. Ultima chiamata per il numero 34, Califano Cristian. Numero 53, Lamanna Gaspare. 61, Piccone Vincenzo. Numero 61, Piccone Vincenzo. Da un consiglio agli atleti, vi invito a risparmiare le energie per la vera gara. Numero 61, Piccone Vincenzo. Ultima chiamata. Numero 81, Di Correto Domenico. 82, Wurms Crista. Gasparè. Gasparè. Giallo. Gasparè a dove? Numero 94, Manna Raffaele. Invito tutti gli atleti a fare un passo verso la loro destra. Tutti gli atleti un passo verso la loro destra. Numero 94, Manna Raffaele. Numero 96, Pietravalle Walter. Tutti gli atleti un passo verso la loro destra. Posizione rilassata frontale. Posizione rilassata frontale. è uguale. Rilassato. Numero 18, Laurino Carmen. Rilassato. Gira! Girate gli schiena. Rilassata gli schiena. Rilassata gli schiena. Va bene, girati, posizione rilassata di forza Giulia, spasa di doppi bicipiti. Va bene, posizione rilassata di forza Giulia. Numero 96, spostati un pochettino verso la tua sinistra. Allargatevi un pochettino, c'è spazio per tutti. Addominali e gambe. Posa del più muscoloso. Trapezzi. Trapezzi. Ok. Fianco alla Giulia, quello che preferite. Posa di espansione toracica. Posa di tricipite. Posa di doppio bicipite. Posa di schiena, schiena alla Giulia. Posa di dorsali. Posa di dorsali. Forza ragazzi, gli ultimi sforzi. Mettetecela tutta. Mettetecela tutta. Le persone che adesso chiamano, invece, vengono avanti fino alla prima riga rossa. Numero 96, Pietravalle Walter. 94, Manna Raffaele. 81, Di Corveto Domenico. 22, Gais. Roberto, numero 34, Carifano Cristian. Fasa di doppio bicipiti. Mettetecela. No, Roberto, ritrovi meglio. Fira! Fira! Le gambe, le gambe, le gambe. Acqua. Sul fianco, posa di tricipite. Fira! Posa di doppio bicipite. Fira! 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 Ok, potete andare sull'ultima riga in fondo, grazie. Vengano su avanti sulla prima riga il numero 5 Conti Gianluigi, 6 Mazzuoccolo Antonio, 18 Laurino Carmine, 32 Mandato Giuseppe, 53 Lamanna Gaspare, 61 Piccone Vincenzo. Ok, potete andare sull'ultima riga in fondo, grazie a tutti, grazie a tutti. Ok, si chiamiamo lui la pausa. Pausa di zomp i bicipiti. Ok, posa di dorsale frontale. Ok, posa 2 milioni e cambi. Ok, posa 2 milioni e cambi. Ok, posa è dura ragazzi, lo so. Ok, posa di più muscoloso. Ok, posa di espansione toracica. Gli ultimi sforzi ragazzi, vi siete allenati duramente. Ok. sempre sul fianco, posa di tricipite. Gli ultimi sforzi ragazzi. Ok, girate di schiena. Posa di doppio bicipite. Posa di doppio bicipite. Ok. Posa di dorsali. Gli ultimi sforzi ragazzi. Gli ultimi sforzi ragazzi. Posa di più muscoli. Posa di più muscolare. Dora, vado da più! Posa di più muscolare. Ok, bravo. Invito avanti il numero 6 e il numero 34. Posa di più muscolare. Posa di più muscolare. Gli ultimi sforzi ragazzi. grazie sposa di tricipite ottimo di schiena doppio bicipite benissimo, bravi ringraziamo tutta la categoria potete pure uscire e iniziamo le routine individuali grazie a tutti grazie a tutti